De Eugenio è anche molto giovane, uno dei portieri più giovani di questa Lega ma seguiamo intanto la conclusione di Cardinali proprio a terra, De Eugenio compie la sua prima parata del match cambio fascia, cercare ancora Cardinali tiro cross di Cardinali è bravo De Eugenio a non cadere nella finta del suo avversario, poi la conclusione dal limite, palla a lato subito reattiva la Baci dopo lo svantaggio Colucci, rimessa Baci fidata a Darpino si fa vedere ancora Cioccari la conclusione con i piedi De Eugenio ancora Baci che prova con questi tentativi di cross dalla trequartia impensierire la retroquartia del Peperino fino a qui, perfetta poi la conclusione da fuori vola De Eugenio leva la palla dall'incrocio dei pali vediamo se riuscirà a trovare nel finale gol della bandiera la squadra di casa Tombesi, vertice dell'area di rigore Caponetti alza la testa la piazza, De Eugenio ancora si supera calcio d'angolo per la Baci Grazie 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 Grazie